Come si proponga le imprese per fornire un supporto idoneo a validare scientificamente le loro innovazioni tecnologiche o le innovazioni che loro intendono trasferire sulle loro macchine, nei loro impianti a livello industriale e nell'organizzare dei protocolli di ricerca con i quali mettiamo a disposizione competenze e materiale umano che magari la piccola e media impresa, specie nella nostra regione, non è in grado di utilizzare a 360 gradi per lavorare sulla sperimentazione, sull'innovazione. Quindi il primo ruolo dell'università è mettersi a disposizione per sviluppare dei percorsi innovativi validati scientificamente. Poi è chiaro, in questo settore, che è quello dell'industria alimentare in generale, di cui mi occupo io, ma in particolare dell'industria olearia, possono nascere delle idee, delle idee che possono venire da noi università oppure dalle industrie e queste idee possono diventare oggetto di argomenti di ricerca con i quali partecipare a bandi specifici possibilmente che vedano la partecipazione di organismi stranieri, che possono essere organismi di ricerca o anche imprese straniere. In quest'ottica sicuramente i PSR ci daranno delle lucidazioni, ma ci sono anche i bandi interreg, ci sono tanti bandi che prevedono la cooperazione fra Puglia in particolare e paesi dell'area balcanica, in particolare l'Albania. Io sono referente dell'Università di Bari per una cooperazione che è appena partita fra la ex Facoltà di Agraria di Bari, quindi Università di Bari e l'Università Agricola di Tirana, con cui stiamo pensando di organizzare degli studi applicati per riprendere terreni che durante periodi del precedente governo sono stati inutilizzati dal punto di vista agricolo e per trovare delle soluzioni meccaniche sia a livello di filiera di campo, quindi di coltivazione della materia prima, sia a livello di filiera di trasformazione, quindi di trasformazione del prodotto fino ad arrivare alla tavola, che siano idonee a sostenere le esigenze e gli obiettivi di questo paese emergente. In questo senso quindi possiamo pensare a un ruolo dell'Università che si affianca alle imprese per aiutarle, soprattutto in Puglia, per aiutarle ad internazionalizzarsi, cioè a vincere quel gap spesso economico e anche legato alla disponibilità di personale o di know-how per uscire dai propri confini e per andare a vendere i loro prodotti su piazze che poi potenzialmente sono degli ottimi acquirenti. È molto importante per chi fa impianti garantire, oltre che la qualità del macchinario, anche la presenza in fase di collaudo e in fase di assistenza. Se si ferma una macchina olearia durante la campagna olearia, che dura pochi mesi, l'oleficio perde un terzo o due terzi del proprio fatturato annuale. Quindi le aziende devono poter garantire questo tipo di servizio e le aziende pugliesi per molti paesi dell'area mediterranea possono costituire un polo di riferimento importantissimo. Si tratta di vincere appunto questo gap.